Una Vigor Trani tutto cuore e grinta costringe al pari la capolista Gravina. Al comunale, per l'occasione gremito da un'ottima cornice di pubblico, il match termina con il punteggio di 0-0. A fare la gara sono soprattutto i padroni di casa che in alcune circostanze avrebbero potuto sbloccare il risultato, mentre l'estremo difensore tranese Musacco è stato praticamente inoperoso nell'arco dei 90 minuti. Nel primo tempo la Vigor è subito aggressiva e sfiora il gol prima con una conclusione di Turitto che fa la barba al palo e poi Coninfimo che lanciato in velocità calcia di prima intenzione con la palla che termina alta sopra la traversa. Nel finale di frazione Bartoli cade in aria per una presunta trattenuta, ma il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste del pubblico e della squadra di casa. Nella ripresa è sempre la vigora a comandare le operazioni e al 65esimo Fumai ha l'occasione per portare i biancazzurri in vantaggio, ma la sua punizione si stampa sulla traversa. Nel finale Precchiazzi potrebbe far male di ripartenza, ma la difesa murgiana è attenta e sventa il pericolo. Con questo punto la Vigortrani sale a quota 39, ma aumentano i punti di distacco dalla zona playoff. L'Atletico Vieste è quinto in classifica, ne ha 9 più del team tranese. Domenica prossima la squadra di Zinfolino sarà impegnata sul campo del Castellaneta, vice fanalino di coda del campionato di eccellenza.